Ciao, sono Alessandro Germini e sono l'insegnante di basso elettrico e contrabbasso della Scuola Musicale Onda Sonora, dove lavoro fianco a fianco con musicisti professionisti esperti e competenti. Nel 2017 mi sono laureato con il massimo dei voti in contrabbasso jazz presso i civici corsi di jazz della Scuola Civica di Milano. Qui ho avuto modo di apprendere le nozioni fondamentali e il metodo di studio necessari per garantire un insegnamento efficace e professionale. Il corso di basso elettrico e a richiesta di contrabbasso è organizzato in quattro livelli preparatorio, base, intermedio e avanzato e affronta tutti gli aspetti fondamentali e gli argomenti teorico-pratici indispensabili ad una sostanziale conoscenza dello strumento. Ogni argomento viene trattato tramite esercizi, studi ed esempi applicativi. Il livello preparatorio è particolarmente adatto all'approccio allo strumento per i bambini dai 9 a 10 anni in su. Spero di rivederti presto qui alla Scuola Onda Sonora. Un saluto ad Alessandro!